Buongiorno e bentornati a Forum Pulire 2020. Questa, lo dico con un po' di dispiacere, è la quarta e ultima giornata dell'edizione di quest'anno, un'edizione come avete visto per chi ci ha seguito, soprattutto eh sul web eh molto particolare, no? In era covid eh molto sul web ma anche eh con la presenza fisica di molti protagonisti eh con cui ci siamo confrontati in questi giorni. Una giornata oggi eh legata molto al mondo della pulizia professionale e dei servizi integrati eh di fatti il tema diciamo il cappello di questa giornata è progettare eh per il pulito e anche per questo tema abbiamo chiamato dei protagonisti molto diversi tra loro, le cui esperienze credo ci possano molto arricchire sia in termini di presente sia in termini di scenario, di visione futura. Cominciamo eh con una parlamentare, una parlamentare che ha fatto eh dell'impegno nei confronti dell'ambiente, insomma delle battaglie come si diceva una volta ecologiste eh il motivo diciamo della sua passione, passione eh civile e passione politica. E Rossella Muroni eh che oggi milita eh in liberi uguali, un partito quindi della maggioranza di governo e che è stata anche lungamente a capo di lega ambiente. Ecco, vediamo dal suo punto di vista eh tutta la partita che riguarda eh la pulizia eh l'ambiente, la sostenibilità che è l'altro grande tema di questi tempi. Allora eh io ringrazio e saluto eh Rossella Muroni. Buongiorno, buongiorno a tutte, a tutti, eh è un vero piacere essere qui e grazie di questa occasione, è un'occasione per incontrare poi il mondo dell'industria e dell'economia dei servizi che io credo sia un dei mondi assolutamente protagonisti di questa trasformazione necessaria in epoca covid ma anche prima del covid verso la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale. Beh io un po' studiando diciamo per la preparazione di questo intervento e quindi anche un po' volendo approfondire eh il mondo del forum pulire duemila e venti eh ho visto che eh il settantadue per cento dei lavoratori eh attinenti a questo mondo è eh composto da donne e ho trovato delle parole molto importanti che sono l'accoglienza, la cura, la felicità eh parole importanti se si pensa appunto di cambiare eh il mondo e di trasformarlo in senso ecologico e eh sostenibile e quindi tutto il mondo degli ospedali, degli alberghi, dei ristoranti, delle scuole, laddove si si fa accoglienza, laddove eh si cura, si curano le persone, si cura la società e in cui la felicità dovrebbe essere un obiettivo. È dicevo con grande gioia che partecipo a questo appuntamento perché io credo che sia uno dei luoghi eh più importanti per dar vita a quel patto tra operatori economici e territori necessario per trasformare eh la nostra società eh sia il senso di sostenibilità ambientale ma anche per rispondere a questa crisi terribile che abbiamo di fronte che è una crisi sanitaria ma è presto diventata naturalmente anche una crisi economica e sociale. Era il millenovecenton novantasette quando la Lega Ambiente di cui allora eh ero direttrice generale eh ha iniziato a occuparsi eh di certificazione ambientale per un segmento eh da questo punto di vista eh dell'accoglienza che erano gli alberghi eh un'etichetta ecologica proponemmo in cui eh gli alberghi raccontavano con noi eh che tipo di politica avevano sul fronte dei rifiuti dell'energia, dell'acqua, dell'alimentazione, della gastronomia, della mobilità sostenibile, dell'accessibilità ai servizi, gli acquisti ecosostenibili, la valorizzazione dei beni comuni e ambientali, eh la comunicazione e l'educazione ambientale. Io credo che eh questo vostro mondo sia eh il mondo dei servizi in particolare sia uno straordinario mass media, uno straordinario strumento di comunicazione e di trasformazione proprio perché ehm attraverso i servizi che vengono messi a disposizione si dà un messaggio in sé perché naturalmente riguarda la qualità del servizio ma anche come si potrebbe vivere tutti i giorni indipendentemente dai servizi, quanto ognuno di noi potrebbe contribuire a costruire ehm appunto eh un mondo diverso a partire dai propri consumi eh e dai propri eh acquisti. È fondamentale il tema della cultura e della formazione. Oggi in questa quarta giornata si parlerà di cibo e di alimentazione. Io credo che sia un ottimo campo in cui si dimostra quanto è importante fare cultura e formazione perché il cibo è ambiente, è cura della persona, è salute come abbiamo eh imparato eh anche in questo frangente così drammatico. Un frangente drammatico dal punto di vista economico e sociale ma che ad esempio non ha fatto rinunciare agli italiani all'acquisto di cibo biologico e di ricerca di una qualità eh della nutrizione. Questo che vuol dire che sta crescendo sempre di più la consapevolezza che la qualità ambientale è anche curarsi di se stessi e trasformare il mondo in una dimensione appunto di eh di felicità ma anche appunto di accoglienza e di cura che sono le vostre eh parole chiavi. Questo mi sembra fondamentale da sottolineare soprattutto nell'epoca del covid diciannove in cui tutte le nostre fragilità sono state messe eh alla luce eh i nodi sono giunti al pettine eh si dice forse un po' un po' banalizzando ma sicuramente questa crisi sanitaria ha messo in fila tutte le nostre fragilità e i nostri punti deboli a partire dalla qualità ambientale la rottura degli equilibri naturali la sottrazione degli habitat ha fatto capire quanto questa crisi sanitaria sia legata alla perdita di biodiversità e in generale all'insostenibilità con cui l'essere umano sta al mondo eh occupa un pezzo di pianeta sottraendo al pianeta stessa la maggior parte eh delle risorse naturali a disposizione. Come si reagisce? Si reagisce con uno sforzo straordinario di innovazione che eh parte dalla messa in discussione dei ruoli e per questo che dicevo che il mondo dei servizi è uno straordinario mass media no? Perché voglio cambiare diciamo eh eh la finalità del mondo dei servizi ma perché riconosco invece questa capacità di penetrare nella vita delle persone, nel quotidiano eh delle persone che spesso per esempio la politica non ha più, anzi c'è un distacco molto forte che ci rende eh sempre tutti eh molto più deboli. Un mass media come quello del mondo dei servizi ci aiuta eh a ragionare di eh un nuovo equilibrio che in tempo di covid diciannove è assolutamente eh necessario e credo che ehm la cura per affrontare la maggiore delle crisi del nostro tempo, dai cambiamenti climatici al covid diciannove appunto è andare spediti sulla via della conversione eh ecologica ma non è una sfida di parte, non è una sfida che noi possiamo vincere eh muovendoci in maniera separata, anzi abbiamo bisogno che economia ed ecologia viaggino a stretto contatto che eh quella della riconversione ecologica sia naturalmente un valore in sé per noi eh ecologisti ma che diventi anche e soprattutto una sfida economica di riconversione economica, di creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove filiere industriali, è fondamentale questo perché non può essere una sfida vinta da un solo settore della società, ci deve essere una grande alleanza in cui ognuno reciprocamente riconosce ehm la preziosità del ruolo svolto dall'altro e si mette eh in discussione. In fondo questo è un momento profondamente trasformativo direbbero i sociologi in cui i ruoli vengono messi in discussione in cui noi dobbiamo assolutamente aumentare il nostro grado di resilienza cioè la capacità di reagire eh alle alle crisi e contemporaneamente aumentare quello che in ecologia si chiama adattamento, si parla spesso rispetto ai mutamenti climatici, la capacità di adattarsi eh al clima che cambia e quindi anche eh alle crisi che noi eh abbiamo di fronte senza subirlo ma appunto sviluppando un alto grado di eh resilienza e quindi la sfida ecologia ed economia vanno portate eh vanno portate insieme. Io ricordo qualche numero che dà la secondo me la contezza di quanto questa sfida sia una sfida importante per il nostro paese, per il pianeta sicuramente ma in cui il nostro paese può giocare un ruolo da protagonista. Sono 432 mila le imprese eh in Italia che tra il 2015 e il 2019 hanno investito in prodotte e tecnologie eh pulite. Si parla di tre milioni di posti di lavoro nella green economy con cinquecentomila assunzioni a tempo indeterminato nel 2019. Insomma il quarantasette per cento delle aziende under 35 ha investito in qualità ambientale e questi nostri numeri ci hanno regalato a livello europeo una leadership sulla riduzione dei rifiuti, sull'efficienza energetica, sul riutilizzo delle materie che è un sapere antico per il sistema delle piccole e medie imprese italiane e sulle certificazioni ambientali. La politica in tutto questo dovrebbe avere il compito di facilitare, di costruire eh delle corsie preferenziali per queste scelte eh fatte in maniera coraggiosa da tanti nostri imprenditori. Coraggiosa vorrei dire ma anche lungimirante con una capacità visionaria importante in grado di portare il paese nel futuro. Spesso questa capacità visionaria e lungimirante viene più dal mondo dalle imprese che dal mondo della politica. Delle piccole e medie imprese che però non vedono come dire rappresentati con forza questi interessi anche nelle grandi associazioni di categoria lo dico molto eh sinceramente. Quindi un' alleanza che tenga insieme eh un nuovo modello di funzioni di di società eh in cui appunto dicevo prima i ruoli vengono messi potentemente eh in discussione. Un modello circolare in cui ad esempio cittadini smettono di essere semplici utenti consumatori eh utenti di servizi in questo caso ma diventano addirittura fornitori di materia prima penso al tema della raccolta differenziata che crea dovrebbe creare nuovi filoni industriali così come quello delle comunità energetiche in cui i cittadini iniziano ad autoprodurre delle energie e addirittura a venderla al proprio vicino di casa. Insomma dobbiamo davvero rivoluzionare il nostro pensiero ehm pensando nel mondo dei servizi di cui stiamo parlando a materiali da riutilizzare di cui allungare la durata nella fruizione che sia appunto un bene o un servizio eh e anche rendere eh più eh agevole eh la manutenzione. È una grande sfida di tecnologia di innovazione però insomma io vi racconto tre brevetti italiani perché ci tengo molto a sottolineare che questa sfida che tiene insieme economia ed ecologia conosce dei primati made in Italy sconosciuti alla politica ma che invece sono fondamentali per raccontare un paese che ce la può fare a vincere questa sfida. È un brevetto italiano quello che ehm ha dato vita a una ceramica con un triplo effetto autopulente antibatterico e anti inquinante così come è italiano il brevetto della bioplastica il polimero vegetale alternativo alla plastica eh che eh come dire adesso è entrato in tantissimi dei nostri prodotti ed è appunto una soluzione made in Italy così come è italiano il brevetto che permette di trasformare i prodotti assorbenti per le persone cosiddetti pannolini eh da rifiuti in materia prima seconda si parla eh di un impianto innovativo che da ogni tonnellata di prodotto eh di rifiuto quindi è in grado di ricavare trecento eh chilogrammi di nuova materia tra cui cellulosa plastica e polimero ecco soluzioni e prodotti italiani che vanno nel senso dell'innovazione ma che non possono bastare noi abbiamo bisogno anche di un'innovazione di processo che passa per una riqualificazione dal punto di vista culturale e eh delle preparazioni sui temi della pubblica amministrazione faccio un unico esempio i criteri minimo ambientali nell'acquisto dei prodotti e nella fornitura dei servizi e quindi la misurazione di quanto un prodotto o un servizio possa aiutare in termini di sostenibilità ambientale non vedrà eh quella necessaria affermazione fino a quando la pubblica amministrazione non renderà questo tipo di soluzioni ehm mi verrebbe da dire più agevole in realtà preferenziale no? Ci deve essere assolutamente a proposito di sussidi e di eh incentivi ci deve essere assolutamente una facilitazione una corsia preferenziale per quelle imprese e per quei servizi che vedono appunto nei criteri ambientali minimi eh il faro per agire per acquistare per fornire eh prodotti e servizi eh buone notizie arrivano sul fronte dell'Europa è successo qualcosa che fino a due anni fa era inimmaginabile è stata messa in discussione l'austerity il patto di stabilità ehm c'è un piano per la ripresa e la resilienza da settecentocinquanta miliardi di euro di questi il trentasette per cento dovrà andare ad obiettivi di green deal eh c'è un come dire ci sono una serie di strumenti dal mess senza condizionalità per gli investimenti sanitari i fondi per sostenere l'occupazione ecco io credo che sia fondamentale che l'Italia approcci a questi eh strumenti innovativi a questa nuova atteggiamento politico da parte dell'Europa sapendo che eh c'è un mondo imprenditoriale dei servizi delle imprese legate alla cura all'accoglienza delle persone che è in grado di eh fornire soluzioni processi eh innovativi eh su cui vale la pena investire perché sono investimenti che servono al paese dal punto di vista economico e sociale quindi il mio appello e mi augurio e la mia disponibilità è naturalmente ad accompagnare questo processo di eh innovazione e cambiamento sociale perché ne abbiamo bisogno e abbiamo bisogno di un grande patto che coniughi ecologia ed economia. Grazie Rossella, grazie a Rossella Muroni anche perché come avete sentito nelle sue parole c'è sicuramente l'afflato, l'importanza eh della partita sulla sostenibilità ambientale ma c'è anche molto pragmatismo, molta concretezza, insomma qualcuno una volta gli ambientalisti eh li definiva i talebani verdi, non è il caso certo eh di Rossella Muroni. Eh allora con il nostro ringraziamento quello di tutto il forum pulire eh ci prepariamo al secondo ospite eh che però incontriamo tra pochissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.